Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali. Passando da regione gialla a regione arancione, le restrizioni diventano più forti. Tra le misure principali, i bar e i ristoranti potranno lavorare solo con consegna a domicilio o da sporto fino alle 22 e dovranno restare chiusi. È vietato spostarsi tra regioni e tra comuni se non per comprovati motivi di lavoro, di salute, di studio o necessità. Tali misure entrano in vigore il 15 novembre. Ascoltiamo il commento del presidente Acquaroli. Abbiamo sempre cercato di studiare nel dettaglio quello che avveniva nel nostro territorio e oggi ci è arrivata questa notizia che assolutamente è stato un fulminaccio sereno. Non perché nella nostra regione il virus non girasse, non perché noi abbiamo cercato in queste settimane di non vedere quello che stava accadendo, ma perché oggettivamente i dati statistici su cui noi ci siamo sempre basati, i dati epimideologici che sono stati alla base degli studi della nostra struttura, dal GORES alla dirigenza sanitaria, su cui ogni giorno riflettiamo, erano dati che ci sembravano e ci sembrano assolutamente in linea con quello che accadeva nelle settimane scorse. Ma andiamo nello specifico per capire che cosa è accaduto di fatto. Calcolando l'indice RT della settimana scorsa, cioè della prima settimana di novembre, si è determinata una crescita sull'ultima settimana di ottobre che era una crescita pari a 1,55. Cioè l'RT della settimana scorsa di fatto è 1,55. Questo indice è stato calcolato sulla settimana precedente che era l'ultima settimana di ottobre. Per capirci, nell'ultima settimana di ottobre noi avevamo un indice RT molto basso, uno degli indici praticamente più bassi in Italia, che era 1,01. Di fatto, la crescita della settimana scorsa, dei sintomatici della settimana scorsa, su quella settimana prima determina oggi il fatto che noi diventiamo, da quello che ci è dato conoscere fino ad ora, una regione arancione. I cittadini marchigiani saranno costretti a stare all'interno dei propri comuni, se non per provate motivazioni di salute o di lavoro, migliaia di attività saranno chiuse perché praticamente l'indice che si è calcolato è un indice che si va a basare sulla settimana scorsa, sulla settimana prima. L'indice che riguardava l'ultima settimana di ottobre era un indice 1,01 che praticamente era come se ci fosse stato un indice di crescita molto, molto, molto basso nella nostra regione. Se la scelta va fatta, va fatta a tutela la salute e della sicurezza. Ma credo che per tendere, chiedere una maggiore concertazione e anche una maggiore lettura di questi numeri, delle motivazioni per cui questi numeri oscillano così in maniera importante da una settimana all'altra, credo che era un atto dovuto non al Presidente Acquarori, non alla Giunta di Centrodestra, non alla Nuova Giunta o agli operatori sanitari o agli licenti sanitari o agli esperti del Gores. Ma credo che sia un atto che era dovuto a tutta la comunità marchiciana che da domenica notte purtroppo dovrà subire e adempiere, perché io invito pure ad adempiere questa ordinanza, che se è fatta ragionveduta è giusta, se non fatta ragionveduta può essere dannosa per l'economia ma anche per quella che è il buonsenso che credo che deve sempre regnare forte tra le istituzioni e la cittadinanza della comunità marchiciana. Si è svolta nel pomeriggio di giovedì, in modalità remoto, la riunione presieduta dal prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, alla quale hanno preso parte, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'azienda sanitaria regionale, i sindaci dei comuni di Macerata, Civita Nova Marche, Potenza Picena, Recanati, Porto Recanati, Corridonia, Morrovalle, Monte Cosaro, Tulentino, Treia, Camerino, San Severino, Marche, Monte Cassiano, San Ginesio, Fiastra e delegati dei comuni di Civita Nova Marche e Monte Cosaro per monitorare l'andamento delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ribadita l'importanza delle attività di informazione per assicurare il rispetto delle regole di condotta essenziali, quali l'uso della mascherina e il distanziamento fisico, quali sono state le richieste dei sindaci. Lo abbiamo chiesto al primo cittadino di Corridonia, Paolo Cartechini. Caro, ogni sindaco ha esplicitato le sue problematicità che più o meno sono per tutti uguali, perché chiaramente il numero dei condaci, le difficoltà per avere queste informazioni in merito ai condaci e quindi c'è stato un confronto con la dottoressa Storti, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza dei dati in tempo quasi reali, perché abbiamo notato tutti quanti la difficoltà di reperire queste informazioni sulla piattaforma di questi dati aggiornati. La difficoltà, la dottoressa l'ha addebitata sicuramente ai dati che i laboratori accreditati non mettono subito sulla piattaforma, quindi potrebbe essere per questo motivo. Ci ha aggiornato che inizierà la distribuzione ai medici di medici dei tamponi, così anche loro possono fare i tamponi rapidi e anche ai pediatri che si rendono disponibili per questa attività. Quindi ci confronteremo con i medici di base con cui abbiamo una interlocuzione potrei dire costante e a cui noi abbiamo chiesto di nominare un referente per avere un contatto più diretto e meno distorsivo e chiaramente più concreto. Quindi questa è la novità che più ci interessa da questo punto di vista. Poi le forze dell'ordine, tutti i sindaci hanno chiesto una presenza sul territorio, perché le politiche municipali con tutte le problematicità dal personale agli orari non riescono a fare un lavoro così vicino ai cittadini, quindi è effettivamente complicato far rispettare tutte le varie situazioni, quindi assembramenti, mascherine, eccetera, perché i vicini ogni comune ne ha pochissimi e tutti abbiamo delle problematicità da questo punto di vista. Quindi questi sono, il prefetto vado alla sua disponibilità, diciamo ecco, di congetto con i comandanti a esaurire queste richieste da parte dei sindaci. L'emergenza pandemica ha stravolto l'attività di molti amministratori pubblici locali. Insomma, fare il sindaco oggi è ben diverso rispetto a quanto accadeva giusto un anno fa in cui ci si occupava di ordinaria amministrazione. Il coronavirus è stato anche vissuto sulla propria pelle da parte di alcuni amministratori. È il caso di Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano. Lo abbiamo intervistato. È chiaro che ogni giorno si vivono delle difficoltà, però se dobbiamo individuare delle persone straordinarie in questi tempi sono tutti coloro che sono impegnati nelle strutture sanitarie e assistenziali che, come dire, si mettono anche a rischio della propria salute per prendersi cura degli altri. Se dobbiamo individuare degli eroi in questa fase così difficile. Però, come dire, è chiaro che non viviamo tempi normali, ma non solo per la pandemia, perché la pandemia purtroppo si va ad innestare in una fase storica in cui il tessuto sociale era già piuttosto frastagliato, c'è un clima di rabbia, di delusione molto diffuso e questo non ci aiuta ad affrontare chiaramente questi momenti difficili. Basta mostrare quanta sfiducia c'è nei confronti delle istituzioni in questa fase storica. Bisogna riscoprire il senso di appartenenza a una comunità, alla collettività, bisogna superare i propri egoismi, capire dove sono i confini delle nostre libertà, avere rispetto degli altri, assumersi una fetta di responsabilità, perché se ognuno di noi lo fa, allora gestire questa fase difficile è più facile, con il gioco di parole, ma in realtà vedo in giro che non tutti purtroppo hanno piena consapevolezza di quello che significhi ammalarsi e ammalarsi in maniera seria, quindi con una polmonite bilaterale, interstiziale, tutte quelle che sono le conseguenze negative che ne conseguono per la salute e anche per l'impatto che ha su una famiglia, su un contesto familiare. Quindi l'invito che mi sento di fare nuovamente è di evitarci di toccare con mano per crederci, crediamoci perché purtroppo è reale e le conseguenze sono pesanti, aspettiamo con ansia che venga confermata l'efficacia di questo vaccino di cui si è avuta la notizia di recente e che poi vengano messe a disposizione un numero più alto di vaccini, di modo che quantomeno le persone più esposte, quindi gli immunodepressi, i malati, gli anziani possano essere messe a riparo da questa terribile malattia. Detto questo, noi cerchiamo nei territori di fare la nostra parte, da soli non si riesce a fare nulla, ma se lavoriamo insieme tra istituzioni pubbliche, quindi sanità, scuola, comuni, regione, Asura, tutti gli operatori, forze dell'ordine, se ognuno fa la sua parte, compresi ovviamente i cittadini, allora potremo affrontare questa seconda ondata con, non dico con più serenità, ma con più consapevolezza e quindi correndo forse qualche rischio in meno. Se invece sottovalutiamo quelli che sono i pericoli e neghiamo quella che è un'evidenza in realtà, allora un po' il futuro mi preoccupa. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. È quanto afferma il DPCM del 3 novembre 2020 in vigore fino al prossimo 6 dicembre. Tuttavia molte sono le criticità emerse fin dalla sua entrata in vigore e notevoli, ancora una volta, sono le ripercussioni per l'intero settore del commercio. Di tutto questo abbiamo parlato con il direttore del centro commerciale Valdichienti di Piediripa di Macerata, Gianluca Tittarelli. Allora faccio una premessa, la premessa è che prima di fare i professionisti, i commercianti e ognuno il suo lavoro siamo tutti cittadini e quindi da cittadini stiamo vivendo questo tremendo momento e sappiamo gli sforzi che vengono fatti da tutti a livello anche governativo, sanitario soprattutto per cercare di combattere questa pandemia. Questa premessa è essenziale perché io voglio dire che né io personalmente né i commercianti che rappresento sono delle persone, siamo delle persone che polemizzano, negano, fanno, scendono in piazza e fanno tutto quello che siamo stati epitulati a vedere. Siamo sempre e saremo sempre rispettosi delle regole. Il problema si pone però con questo ultimo DPCM dove se per, diciamo così, se il fine ultimo di questa norma è quello di evitare gli assembramenti e quindi combattere il virus. Bisogna dire con forza e con veramente energia che questi assembramenti non si combattono ma vengono aumentati perché se noi chiudiamo i centri commerciali e solo i centri commerciali chiusi. Innanzitutto ci sono tre problemi. Innanzitutto il primo è che le persone che escono di casa il sabato e la domenica per venire in un centro commerciale e trovano chiuso, sia tranquillo che non tornano a casa e aspettano il lunedì per tornare, ma girano la macchina e vanno in un'altra direzione presso una struttura aperta. Una struttura che essendo aperta aveva già la sua clientela e che dovrà ospitare anche quella di uno dei tanti centri commerciali chiusi, quindi è matematico, oggettivo, non c'è ombra di dubbio, su questo siamo seri e parliamo di fatti, che ci sarà più gente in meno strutture, quindi l'assembramento non si combatte, ma si aumenta. Due, questa si chiama, è definibile questo provvedimento in due parole, concorrenza sleale. Perché concorrenza sleale? Perché quando c'è stato il lockdown e si doveva stare chiusi, siamo stati tutti chiusi, ci mancherebbe grandissimi danni, ancora ne riportiamo dietro le cicatrici, ma ci sta alla riapertura, tutti aspettavano poi il ritorno della clientela che poi è arrivata, perché devo dire che dopo il primo lockdown si è notato anche una certa ripartenza negli affari, c'era un ritorno alla positività. Ma adesso se io sto chiuso e a 150 metri c'è una media struttura di vendita che è apertissima, oltre al problema di qui sopra, ma evidentemente io ho un danno, ho un danno e il cliente che va lì non tornerà più, perché l'acquisto quantomeno l'ho perso. Capisce che quindi viene meno proprio un concetto di equilibrio. Terza cosa vorrei dire, i centri commerciali che vengano trattati da questo DPCM come dei posti dove chissà che cosa succede, dico con forza e per mezza, che sono dei posti super sicuri, perché io voglio sapere dove succede che se lei va le misurano la temperatura all'ingresso, c'è la vigilanza che le dice che deve portare la mascherina, anche se la abbassa gliela facciamo alzare, perché tanti la bottano sotto il naso, sotto il mento, quindi vengono riprese. La diamo se qualcuno non ce l'ha, oltre che la vendiamo o la regaliamo anche, se qualcuno non dovesse averla? Vengono sanificati regolarmente tutti gli ambienti interni, l'aria condizionata è un plus, non è un minus, perché poi prende l'aria da fuori, la filtra, quindi non c'è ricircolo. C'è il distanziamento, perché poi tutti i negozi, questo in tutti i posti, non solo nei centri commerciali, è vero, ma dappertutto, vengono il cartellino con si può entrare al massimo in. Quindi voglio dire, tutte queste misure, se io vado in un mercato rionale o se vado in un altro posto, a me non me la misura nessuno la temperatura, nessuno. Io posso avere 38 di febbre e girare tranquillamente in un posto come quello, ed essere un potenziale sintomatico che infetta la gente. Quindi voglio dire, la guerra ai centri commerciali fa ridere, signori, fa ridere. Malauguratamente, un ingresso in zona rossa addirittura, non solo provocherebbe la chiusura di gran parte delle attività commerciali tutti i giorni, ma appunto condurrebbe anche una riduzione degli spostamenti sensibile, cioè torneremo al lockdown, in buone parole. Ecco, dal suo punto di vista, che è un punto di vista privilegiato, frutto anche di anni d'esperienza in una realtà ben nota, quale il Valtichienti di Macerata, realtà che ha 22 anni alle spalle, peraltro. È sostenibile, secondo lei, un inasprimento delle chiusure oggi e quali sono le ripercussioni di un nuovo lockdown sull'economia locale? Allora, evidentemente un nuovo lockdown sarebbe tragico, ma questo purtroppo non va d'accordo con quelle che sono invece le raccomandazioni sanitarie, ci rendiamo conto, però se uno mi fa una domanda, io dico che rispetto a quella che è stata il primo lockdown, quella che è stata la chiusura nella prima parte dell'anno, il commercio ne ha risentito tantissimo, la somministrazione di elementi e bevande, intendo bar e ristoranti classici, non quelli nei posti turistici dove in realtà l'estate ha dato ristoro, quelli normali, quelli che operano in centri commerciali, in piazze, in centri storici, ne hanno risentito tutti e stiamo ancora contando i danni. È chiaro che un altro lockdown sarebbe tremendo, paradossalmente sarebbe più accettabile, sarebbe quasi più logico avere, se serve una chiusura, fare un lockdown per poi superare, speriamo, questo momentaccio tremendo in attesa soprattutto dei vaccini, perché poi lockdown è un lockdown, il discorso è che si risolverà così, quindi magari aver fatto o fare un lockdown che è veramente tremendo, però all'inizio dell'intervista siamo persone che sono cittadini prima di tutto e quindi ci atteniamo e vogliamo tutti superare questa difficoltà. Forse sarebbe stato meglio quello che quello che c'è adesso, perché quello che c'è adesso non abbassa, non crea minore sembramenti, crea solo danni a qualcuno. Quindi forse avremmo accettato di più, guardi, una cosa comune, perché è così per tutti e quindi dobbiamo stringere i denti e andare avanti, anche se è veramente difficile, piuttosto che questa cosa raffazzata in un modo indegno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon proseguimento con i nostri programmi.